La sala polivalente e gran guizza di Popoli Terme si è animata di passione culturale lo scorso sabato 23 marzo accogliendo la presentazione del libro Fra Cieli e Terra dell'autrice Maria Loretta Zaino. L'evento che ha avuto luogo alle ore 17 è stato un punto di incontro per gli amanti della letteratura e della storia locale. Organizzato dalla città di Popoli Terme, l'evento ha visto la partecipazione del critico letterario il professor Massimo Pasqualone che ha guidato il pubblico in un'immersione nell'antica parlata popolese. Il libro di Zaino è una celebrazione della lingua e della cultura popolese, un viaggio attraverso le parole che tessono la ricca tappezzeria culturale di Popoli Terme. Il titolo vuole dire questo, che il dialetto è come sospeso tra il cielo, i nostri avi che ci parlano in dialetto, e la terra. Noi che il dialetto abbiamo dovuto dimenticare per poter camminare nel mondo. È una raccolta di racconti trattati con grande leggerezza. Non ci sta né nostalgia del passato né il rimpianto dei tempi antichi, ma è come fossero racconti di una ragazzina, la ragazzina della stazione, che nella giornata vede soltanto il lato positivo e cerca le cose buone, senza rimpianti e senza dispiaceri. La lingua in cui è scritto è l'antica parlata popolese. Il libro non vuole essere un trattato sul dialetto, assolutamente no, ma soltanto ho voluto rendere omaggio alla parlata dei nostri nonni che hanno vissuto qui a Popoli e fissare sulla carta, per quanto possibile, il suono di questa parlata, che è un suono particolare e molti linguisti e dialettologi non lo conoscono. Il dialetto popolese non è conosciuto e quindi ho voluto fare questo omaggio semplice e niente di più. Un libro molto particolare perché nell'antica parlata di Popoli vengono raccontati personaggi, odori, emozioni, ricordi e memorie dall'infanzia fino ai giorni nostri. Poi un dialetto molto molto particolare. La Zaino è una pediatra in quiescenza che ha dedicato questi ultimi anni alla scrittura di questo volume. Quindi una bellissima esperienza non solo letteraria ma anche un pomeriggio con un evento culturale. È chiaro che per superare anche un po' la barriera del dialetto, soprattutto quello di Popoli, un dialetto molto stretto, abbiamo pensato anche una traduzione in italiano. Affinché questi racconti possano varcare un po' il limite territoriale, tra l'altro sono dedicati a tutti i popolesi nel mondo e quelli che stanno nel mondo sono forse anche di più di quelli che vivono a Popoli. È il primo libro di questa scrittrice di Popoli. Io penso che sarà foriero di tantissimi successi e quindi le facciamo gli auguri per questo nuovo cammino letterario. Questo è il suo primo libro sulla tradizione popolese, scritto nell'antico dialetto popolese. è un libro che parla delle tradizioni, che parla delle emozioni di tempi passati e che trasmette quella che è la cultura di una realtà di un tempo, di una realtà che oggi viene fatta conoscere alla nuova generazione e che viene riscoperta dalla vecchia generazione. Il dialetto sappiamo che da noi è la lingua ufficiale del paese, cambiano da paese a paese anche limitrofi, quindi la cultura del dialetto credo che non si debba perdere assolutamente, bisogna rinvigorirla perché è la storia, perché oggi i ragazzi non usano l'italiano, non usano il dialetto, usano tutti i termini inglesi, quindi secondo me ci fa bene tornare a conoscere e conoscere anche da dove venivano certi termini, certi proverbi e niente, sono contento di questo, sono contento soprattutto di avere una sala piena.